Voglio chiedere ad Alberto Uva questo, cioè adesso al di là della questione del vaccino, della singola cosa, per me ognuno fa quello che gli pare e è libero di fare come vuole, però c'è forse in questa nazione un problema culturale, cioè andare oltre, c'è un discorso prevalente che vale per la guerra, vale per la pandemia, vale per il cambiamento climatico, vale per qualunque cosa, no? Si discute in queste ore ancora di nuovo dell'emergenza fascismo su tutti i giornali, come se fossimo nel 22, ma 1900, abbiamo un problema con la sudditanza ideologica in Italia? Assolutamente, io sono veramente, devo dire, infastidito delle volte da questa, su qualsiasi problema in Italia c'è una pregiudiziale ideologica, su qualsiasi cosa viene filtrata o strumentalizzata dall'interessi o di parte o corporativi e comunque da una pregiudiziale ideologica, quindi è un problema assolutamente culturale e non riusciamo a uscirne, pare che proprio non si è declinato in qualsiasi situazione. Lei ha anche una grande passione per la storia, è un conoscitore della storia, peraltro gestisce una villa che è un patrimonio meraviglioso, più tardi vedremo anche delle immagini, ma è sempre stato così, cioè noi siamo una nazione che ha prodotto alcune cose meravigliose nell'arte, nella cultura, siamo un patrimonio dell'umanità in tutti i sensi, però abbiamo poi di fronte a queste cose anche di buon senso una pochezza. Io penso che sia sempre stato così, d'altronde ne abbiamo contezza se guardiamo indietro nei decenni trascorsi, è un problema proprio del DNA, della nostra storia del DNA, secondo me, del paese, questo è un paese che non ha mai avuto un noi collettivo, ma è un paese che ha sempre vissuto di o localismi o interessi particolari, o divisioni, consorterie, quindi questo è quello che si vede, si replica. Siamo sempre a Guelfi Ghibellini. Esattamente, esattamente. Solo che scende il livello della discussione, diciamo, per almeno l'epoca. Questo assolutamente, però io penso che il problema sia proprio quello, e nulla è mai cambiato, e nulla è stato mai fatto per cambiare, perché dovrebbe essere un cambiamento culturale che probabilmente nessuno ha veramente interesse poi ad affrontare. Questo è il vero problema, perché tutti parlano, è un paese dove la parola, l'arte della parola, è un paese, io dico spesso, purtroppo bellissimo, è un paese di parolai dove tutto parla, ma quando poi si viene a toccare il tuo interesse, fermi tutti, perché in fin dei conti forse va bene così. Ecco, non c'è solo l'interesse particolare dei singoli, c'è anche l'interesse di qualcun altro che sta oltre i singoli, oltre la nostra nazione, che approfitta di queste divisioni, di questa ideologia, di questa coltre, per fare un po' di soldi. Dunque autore, da Gramsci e lo stesso Mussolini. Ho conosciuto Renzo De Felice, ho avuto il piacere, essendo un cultore di storia e occupandomi, essendo soprattutto occupato della storia di quel periodo, dal 14 diciamo al 45, e ho conosciuto molto bene sia Giorgio Galli che Renzo De Felice, ma il problema è un po' quello che diceva lui, il nostro paese non ha mai fatto i conti col fascismo, non ha mai fatto i conti, per cui è incredibile, noi ci troviamo da 70 anni a parlare sempre delle stesse cose. Ti ricordi che la Boldrini voleva cancellare le scritte duce, i monumenti del duce? Fori Danico lo abbatti, Leo lo abbatti. Perché Conte Uva, che io vi invito ad andare a vedere... Poi chiedo scusa perché non gli ho dato, poi gli ho tolto la parola. Sì, ma adesso torno da lui perché gli faccio vedere. Facciamo vedere, perché ce l'abbiamo, alcune immagini, questa villa meravigliosa, di cui, eccola qui, Villa Sormania Missaglia, che è splendida, è aperta per le visite, andatela a cercare su internet, prenotatevi, andate a vedere, perché è un pezzo di tante storie dell'Italia, perché pensate, ci sono dai reperti romani, addirittura armi di un guerriero romano, c'è tutto un passaggio, no? Da Roma, passando per il risorgimento, per l'aristocrazia di Casa Savoia, e poi si arriva, nel piano superiore, c'è anche una grande collezione di armi e di divise, tra queste ci sono anche armi e divise del ventennio fascista, perché anche questo... lì si vede, no? Voi fate i conti, aiutate a capire che cos'era la storia, la fate vedere e toccare. Sì, diciamo che il progetto culturale che porta avanti a Missaglia è proprio quello di avvicinare le persone alla storia in maniera diversa, emozionale, e di diffondere, appunto, la conoscenza della storia, che secondo me oggi è la grave carenza, perché oggi la storia viene in maniera costantemente, scientemente ripudiata, rinnegata, travisata o strumentalizzata. Allora, poter avvicinare le persone alla storia in un modo più coinvolgente, penso che abbia sicuramente un valore. Tra l'altro, quello che avete visto è tutto privato, cioè un privato cittadino che si mette a disposizione e cura un bene storico pubblico, nel senso che è di tutti, fa parte del nostro patrimonio, e lo fa investendoci da solo, e sarebbe bene invece che lo Stato, invece di occuparsi di tante altre stupidaggini e porcherie, aiutasse un po' anche queste esperienze, le valorizzasse, le facesse conoscere, perché di queste ville in Italia magari non tutte così belle, però ce ne sono anche altre. Voi fate una bella cosa, per questo vi fate funzionare di nuovo il pensiero, andate a cercare, prenotatevi per una visita, così la vedete e capite, toccate, le vedete vicino, si parla della marcia su Roma, lì ci sono anche addirittura dei reperti. Sì, è storia d'Italia, è storia, come diceva lei, è storia d'Italia, è storia del territorio, è storia della comunità, ma è storia anche di questa nazione. e quindi è giusto renderla fruibile alla comunità e quindi far partecipe la comunità, aprirla la comunità a far partecipe di questa storia e narrarla nella maniera corretta. È chiaro che si presta molto, quello che diceva lei, a uno storytelling molto coinvolgente, perché andiamo dal castro romano, su cui è stato edificato un palazzo nel 1300, i reperti romani trovati nella cappella trecentesca, al 600, la residenza feudale. E poi ci sono un po' di misteri anche riguardanti i templari. Anche tanti misteri, un codice templare. Ce n'è di tutti, però. E quindi si può fare, raccontare la storia. No, volevo dire, condivido pienamente l'analisi lucida e precisa di Gianluigi Paragone, ma volevo dire, sul fatto che il governo italiano poteva aspettare, Beh, lì però l'hanno messa con le spalle al muro, perché noi dobbiamo obbedire all'America e l'America ha chiesto allora questo governo va tutto bene, se però i paletti sono questi. Eh ragazzi, se tu già ti consegni... Se tu già ti consegni... Certo, certo. Però questo è un tema rilevante, cioè la mancanza di sovranità... Noi dipendiamo dalla me, noi c'è poco da fare, l'Europa dipende... Noi tu